Grazie a tutti. Siamo qui per misurare il quantitativo di neve, siamo sui 20 centimetri abbondanti, nevica ancora benissimo e quindi ci sono tutte le prospettive per un bel manto nevoso. Siamo alzati di circa 50 metri, quindi siamo sui 1700 e abbiamo riscontrato un 10 centimetri in più di manto nevoso, quindi siamo a 30 centimetri e nevica abbastanza abbondantemente. Grazie a tutti.